Su questa base vedete già che ci sono le possibilità anche di studiare che cos'è fattibile, che cos'è... Oggi tutti parlano di comunicazione, a me interessa il tema della conoscenza, la comunicazione la lascio più ai media e la lascio più agli ambiti pubblicitari o di altro genere. Il tema è anche andare a vedere che cos'è il normale, che cos'è il piacevole, che cos'è il come tutti, che cos'è il nonostante tutto e che cosa sono le richieste. Quindi amplierei il concetto del tema di dignità della vita, che non posso relegare a un tema legislativo o giurisprudenziale, per andare a vederne un tema dell'essere. Non tanto dell'uomo, della donna, del lavoratore, tutti ruoli importantissimi, ma andrei proprio a monte a vedere che cos'è una persona che dice io sto bene. Quindi che cos'è la condizione nuova o diversa della condizione possibile. Questa mattina vorrebbe essere un incontro sul tema del concepibile e dell'inconcepibile. Anche il tema della paura, e poi ripeto facciamo parlare subito e partiamo. Ovviamente credo che Giampiero avesse paura, quando stava bene, di, l'hai detto, diventare diverso, di essere chiuso, di essere lontano. E l'importante sarebbe poter analizzare anche in queste sedi cos'è il tema della paura, che cos'è il tema del danno, che cos'è il tema dell'oltre, che cos'è il tema dell'anche, che cos'è il tema del non so, che cos'è il tema del dopo. Allora, ovviamente, il timore è sempre quello di cadere, come dicevi tu, o nel pietismo, o nel poverino, o nel... Ecco, quante diagnosi vengono fatte, non dai medici, ma dalle persone cosiddette comuni. Tu, Lucia, raccontavi che ai bambini veniva nascosta la vista di Giampiero, quando voi passeggiate, quando voi camminate, le persone che fanno scongiuri. Accade ancora questo, cioè, è veramente incredibile come uno vuole pararsi l'occhio proprio, non vedere. Abbiamo poche occasioni per uscire e fare tratti di strada a piedi, per cui ce li abbiamo direi solo al mare, facciamo tutto il lungomare di questo paese, e lo facciamo più volte nella giornata, per cui incontriamo gente diversa, e, cioè, per noi è ridicolo a questo punto, però quante mamme fanno attraversare la strada dall'altro lato i bambini, quante mamme non guardare, quante persone... c'è chi si fa il segno della croce, c'è chi ne fa di ogni, insomma. E, però, insomma, noi questo, grazie al cielo, non ci disturba, però ci rendiamo conto di essere diversi da questo aspetto, dalla gente che comunque ha una morbosità, ma proprio morbosità, direi, e una curiosità di sapere se è un incidente, che cosa è stato, è più difficile trovare aiuto in qualsiasi bisogno, siamo con la carrozzina in difficoltà, è difficile che qualcuno si avvicini e ci dica avete bisogno, è più facile che ci dicano cos'è successo, quanti anni è così, capisce, questi sono praticamente i problemi che la gente si fa quando ci vede, ecco. Ovviamente il tema è quello del primo impatto, chi è che non ha un impatto forte alla vista di Giampiero? Quello che si chiede alle volte è come culturalmente, perché non è un tema solo clinico, ma è un tema culturale, com'è possibile culturalmente modificare i tempi di crescita e di maturazione del dopo impatto? Cioè quanto dura nella figura, nella persona, il oddio, è capitato a lui, per fortuna non è capitato a me, se dovesse capitare a me, passati questi dieci minuti, questi dieci giorni, questi dieci mesi, è possibile costruire, da un punto di vista antropologico, da un punto di vista umano, o anche sovrumano, da un punto di vista filosofico, un'altra apertura mentale, da poter far sì che sia connesso e che sia concepito questo tipo di vita agli altri tipi di vita? E viene da studiare un tema, è possibile che anni e anni di lavoro contro l'idea di altre bellezze, di altri corpi, di altri atteggiamenti, di altre dignità, abbia lavorato e continua a lavorare profondamente nel tema di un'emarginazione che non è solo fisicovisiva e logistico-cittadina, ma è interiore? Allora, parimente alla ricerca scientifica, che deve fare passi da gigante per le sindrome, per le malattie rare, per tutto quello che c'è, ci si chiede, si può fare un lavoro artistico, culturale, di ricerca interiore, di ricerca ulteriore, per andare a non classificare soltanto lo Dio, il poveretto, il ma dai, ma io se fossi lui, ed aprire un tema anche che lavori su diversi campi, su diverse predisposizioni, su diverse visioni, su un occhio che traduce, su un orecchio che traduce e che può avere altri linguaggi, una specie di esperanto dell'interiorità che possa permettere un linguaggio comune anche a chi il linguaggio non ce l'ha. Allora, tutto questo mi ha mosso in questi anni a portare, a girare e a raccontare una storia che non è soltanto la storia di chi ha avuto il coraggio, l'eroe, gradirei specificare, e spero che lo specifichi dopo Giampiero, che qui non si tratta di eroismi, siamo troppo malati di miti per poter capire che la mitizzazione in lui non c'è, ma c'è una richiesta di altro tipo di linguaggio, che non ha niente a che vedere col migliore, col più buono, col più bravo, con chi ce l'ha fatta. Abbiamo troppo un concetto sportivo della vita, agonistico, un concetto esageratamente da sfida e da risultato. Qui il problema è anche l'utilità di un uomo di questo genere. Spesso molti medici hanno detto che tipo di vita è, che dignità è, se uno deve vivere in questo modo, cosa serve. Quindi possiamo fare un lavoro anche socio, politico, economico, sul tema della figura di determinate malattie. Uno dice in che sede lo si fa. Ma io partirei dagli asili, come dico spesso, per cominciare a fare vedere che cosa esiste in questo plastico che è il corpo umano, in queste sculture che sono le persone che camminano. Ma è sempre una voce mia che non vuole essere oggi, se non una voce di ponte e che non necessita appunto delle domande dirette a me. Io vorrei partire con chiedere a Giampiero in questo momento qual è la cosa che lo fa più arrabbiare. Ecco, se puoi parlare per far vedere come ottenete... è finito con l'indifferenza o devi andare avanti? Devi andare avanti. vocale primo, secondo, H, A, vocale primo, secondo, H, L, M, N, vocale A, E, nel, nei, vocale primo, B, C, vocale A, E, I, O, nei confronti, vocale primo, B, C, D, da, D, dei, vocale primo, B, C, D, disabili. Questo è un esempio della metodologia senza nessun plauso pur essendoci alla bravura di Lucia e alla velocità e anche alla noia che prova Giampiero ad avere sempre il riferimento della sua compagna attaccato. C'è anche altri assistenti e assistenti donne eccetera che l'aiutano, diciamolo che la rottura di palle che può essere totale tutto il giorno sentire la tua voce e basta, si amplia le volte, c'è qualcun altro che ha queste capacità. Quindi lo dico perché ogni tanto Giampiero, una cosa che ha detto quando ci siamo visti la prima volta, ha detto che una delle cose che mi ha fatto più piacere parlando in pubblico è che non parlavo solo con mia moglie o con i miei, ma no, con tutto l'amore che ha per te. No, ma infatti e soprattutto è abituato anche con un pubblico diverso, nel senso che sono di più le persone in pensione, le persone di una certa età che ci seguono eccetera. Per cui essere davanti a un pubblico di giovani è molto contento, lui si sente ed è ancora molto giovane, dice. E poi dopo questo aggiungiamo anche ancora un pezzettino della nostra storia, che un anno fa proprio arrivavamo al mare a Loano, ha pure avuto un ictus e un coma, no, scusate non un ictus, un infarto e un coma, quello che ci mancava. Però siamo qui oggi, siamo a Milano, per cui è passato anche questo. Molti dicono cos'è la surrealtà, secondo me questo è un esempio estremo di grande letteratura surreale, molti lo possono chiamare accanimento, ma siamo qui anche per parlare di che cos'è l'accanimento, di che cos'è il destino, di che cos'è la scelta, di che cos'è il perché. E adesso io comincerei con le domande, se ci sono, vorrei, penserei, auspicherei da parte di studenti, di professori, di giornalisti, per un'occasione che non è quella televisiva del vedere solo appunto i casi, o degli schieramenti, da che parte si sta, ma del poter chiedere a una persona, anche dato gli studi che fate, dato i lavori che preparate, possa essere di interesse e di piacere per Giampiero. Noi abbiamo un microfono vagante, eccola la nostra valletta, anche qualche professore, parliamo anche delle curiosità più becce, delle possibilità di poter chiedere cosa succede lì dentro, quali sono i momenti della sua giornata, che cosa, che cosa vi dà fastidio pensare, o che cosa vi fa piacere pensare. C'è una mano nel centro, Valletto. Sì, prima diceva appunto che aveva paura quando era sano. Adesso volevo capire com'è cambiato il rapporto con la paura e con il vuoto. Giampiero, com'è cambiato il rapporto con la paura e con il vuoto? La paura ha detto di sì. Allora, com'è cambiato il rapporto con la paura e con i suoi metti. solo questa è una sua paura grande adesso quindi non è da solo direi proprio di no non abbiate timore anche come dire le paure invece della malattia direi che sono si sono ribaltate completamente prima lui non voleva un'iniezione non voleva un esame adesso lui è sempre direi positivo più di me nelle cose e accetta tutto proprio in modo molto naturale spieghiamo cos'è positivo perché io sento un silenzio rumoroso e domandante cosa vuol dire è più positivo sì perché io sono più come dire più timorosa per lui ho paura di fargli male ho paura di di non so di non essere in grado eccetera lui invece su questo aspetto mi incoraggia molto mi aiuta molto perché lui ha sempre avuto un carattere positivo lui ha sempre amato la vita e quando io guardavo le cose da donna i negozi eccetera mi diceva non capisco il senso di queste cose quando abbiamo degli spettacoli come il cielo i paesaggi eccetera e voi guardate quelle vetrine lì è sempre stato un appunto una persona che apprezzava la vita che apprezzava i doni della vita la terra l'acqua che apprezzava la gente anche e non è mai cambiato il suo carattere è rimasto tale è molto positivo perché anch'io ho le mie paure ce la farò non ce la farò il lato economico il lato fisico ci sono tanti problemi invece lui sotto questo aspetto è come dire sia ritemperato è molto forte non ha paura di niente direi quando questo è chiaro anche perché quando si è svegliato dal coma a maggio dopo un infarto terribile il suo risveglio è stato un sorriso e ha detto ma io non riuscivo a svegliarmi ho fatto una fatica a svegliarmi incredibilmente e dicevo ma cosa mi sta succedendo perché non mi sveglio questo è stato l'aspetto che ha avuto lui di una giornata di coma ovviamente lui l'ha vissuta così e noi vedendo invece questo corpo inerme questo corpo così finito sembrava e da lì tutto quando io mi arrabbio lui mi dice parla piano non arrabbiati quando dico ma ce la faremo lui mi dice ma io non ho capito neanche perché lo chiedi mi appiana molte cose direi e anche con i suoi figli è molto e molto positivo perché tutti i problemi li prende li risolveremo si fa guarda vediamo e faremo questo è il suo la sua giornata insomma vorrei fare solo due domande brevi una era cosa può dire o cosa si può spiegare ai medici delle fasi acute che l'hanno seguito in rianimazione magari l'immediata fase di riabilitazione eh presi giustamente a salvaguardare la sua sopravvivenza e garantire una certa autonomia ma cosa può dire cosa manca se c'è qualcosa che manca o come questi medici possono essere vicini pur in questa fase acuta dove devono essere estremamente efficaci ed efficienti ma cosa può mancare cosa possono dare di più a queste persone poi volevo sapere come è cambiato il vostro rapporto con l'ascolto con il linguaggio con le tante parole che si dicono eh se è cambiata la vostra relazione con le altre persone insomma sapendo quanto il linguaggio a volte costi e quanto sia denso ecco grazie quello del rapporto del medico come gli chiedessi la quella del medico cioè qual è stato il medico il medico ah sì sì adesso glielo chiediamo allora i rapporti con i medici è stato un bel problema è stato un bel problema perché ci siamo spostati in più ospedali e per cui c'era la valigia sempre pronta dal centro riabilitativo alla cardiochirurgia di Padova a Milano a Ferrara insomma e poi appunto siamo stati a Roma direi che la storia di Roma ci ha ci ha segnato ci ha segnato perché c'è stato un cambiamento radicale per lui e per tutta la famiglia ovviamente non siamo più tornati a casa i nostri figli erano ragazzi normali che vivevano con i genitori si sono abituati a vivere da solo e da soli e punto stop perché io ho sempre fatto le notti in ospedale a lui e per cui andavo a casa qualche ora nel pomeriggio i medici sono stati una fonte di speranza e a volte anche di depressione perché sì ci facevano coraggio eccetera però quando è stato in rianimazione è stato il peggiore periodo perché le sue condizioni erano veramente gravi però le aspettative di vita erano zero dico che sono deludenti perché andando avanti nel tempo questa è una patologia rara casistica non ce n'è i libri parlano poco e per cui le aspettative di vita ce le davano per un anno un anno e mezzo noi per cui famiglia tutta cioè ci fasciavamo la testa per un anno di vita angoscioso è passato sono passati sei mesi sono passati nove mesi e questo veramente fa male abbiamo trovato persone competenti e persone anche voglio dire disponibili perché se si pensa che noi eravamo fuori di casa in mezzo alla strada in un albergo abbiamo avuto ospitalità da gente di corridoio e qualche stesso medico ci ha chiesto se volevamo essere ospitati da loro per cui abbiamo trovato brava gente e gente coscienziosa poi c'è un po di tutto perché comunque una volta finito la fase acuta e andati nella normalità chiaramente lui è un uomo perso un uomo dove aspettative di recupero non ce ne sono per cui per un medico è un paziente da rsa questo è stata la delusione perché comunque anche i piccoli segnali che noi familiari vedevamo venivano poco considerati ma insomma lo vedete voi voi vedete i miracoli sono quando si muove sono delle contrazioni noi avevamo individuato da subito il movimento dell'indice sinistro e come della bocca e ce li siamo dovuti un po gestire noi direi anche con arroganza nel senso di dire no però no è così dare delle dimostrazioni che non è semplice che non è semplice poi vi posso anche raccontare che siamo stati in un ospedale di casa di piacenza per sei anni dove abbiamo avuto cattivissimi rapporti dove io ho avuto cattivissimi rapporti perché lui era dimesso subito dopo la fase acuta io ho detto ma come faccio portare a casa un paziente così cioè non lo so voi mi dite c'è da cambiargli la canola li la cambia lei ma come qua in ospedale mi mandate dallo torino e allora perché devo cambiarla io a casa o tante altre cose ma poi sono cose che si fanno si fanno si fanno ma che comunque delegavano mai in ogni responsabilità e soprattutto nella biavitazione per cui sono cominciate le prime grosse difficoltà anche col personale perché il primario del reparto dove eravamo noi ha rotto i rapporti completamente con noi e lui non ci ha mai dato la possibilità di un momento di privacy ma non solo lui aveva bisogno di essere in una stanza solo proprio per le sue condizioni canali aperti le altre persone che noi eravamo in una lunga degenza per cui persone anziane eri in un corridoio no come eri in un corridoio io ero in una stanza di tre persone e con patologie svariate abbiamo avuto anche una sospetta meningite ecco e per cui questo è stato un problema grosso anche perché non hanno dato la possibilità a me di un minimo di recupero nel senso che io dormito su una sdraio su una sedia per sei anni ma sopra soprattutto la cosa gravissima è stato che questo primario quando veniva in stanza non visitava giampiero saltava la persona lo scavalcava e ovviamente i medici che sono sotto di lui tra virgolette non si sono mai ribellati da questa cosa mi ribellavo io quando avevo necessità di dire mio marito ha bisogno e loro tornavano indietro eccetto lui però siamo sempre stati in un posto con con problemi con gravi problemi avevo segnalato la l'utilità e secondo me ancora oggi c'è della presenza di un supporto psicologico di una persona che comunque deve tenere tutto per se stesso ma non è possibile perché avete un linguaggio particolare questo tipo di linguaggio è stato imparato da più persone una trentina per cui è un linguaggio che se uno vuole lo impara non non abbiamo un sanitario che lo sappia non abbiamo il fisioterapista che sappia comunicare con lui non abbiamo vabbè l'infermiera la vediamo poco però voglio dire nessuno compreso il mio medico ha detto io voglio vedere come fate perché basta ma stanno cinque minuti e questo è un altro problema da segnalare per cui non è stato facile anche se poi ci sono state delle realtà dove hanno cercato di metterci non a nostro agio molto di più anche di non lasciare solo giampiero vi posso fare l'esempio di un intervento che ha avuto l'occhio parma mi hanno lasciato in sala operatoria col camice tutto per cui c'è un abisso da una cosa all'altra però purtroppo questi problemi ci sono si sono verificati e sono molto molto gravi e molto come dire cioè molto fastidiosi mi hanno veramente questo mi ha fatto più male della malattia perché vedere un equip di medici che il mattino entra in stanza e scavalca nettamente giampiero questo mi ha dato questo veramente non lo sopportavo però ho fatto anche molto braccio duro e detto va bene visto che comunque l'azienda non sa dove mandarci perché quando si trattava di spostarci l'rsa non ci prendeva la lunga degenza riabilitarsi la riabilitazione non ci riprendeva perché non c'erano recuperi dove andiamo se non ci sono le strutture noi non abbiamo la colpa anche di questo abbiamo già una malattia sul gruppone che pesa non so quanto cercate di aiutarci ecco questo è stato un periodo veramente brutto chiediamo a giampiero che cosa sono per lui i medici giampiero cosa sono i medici per te vocale parimos b c vocale a e i o vocale parimos secondo h l m come vocale parimos b c d vocale a e i come di vocale parimos b c vocale a e dice diceva lucia vocale parimos vocale a abbiamo vocale parimos secondo terzo q r s t trovato vocale a e i vocale parimos secondo h l m vocale parimos b c c d d d d c vocale parimos 3 vocale parimos secondo h l m vocale parimos secondo h l m p comprensivi con p VC A, E, competenti, vocale, A, E, vocale, primo, B, C, D, D, D e D, e disponibili, vocale, A, E, I, O, U, vocale, primo, B, C, D, F, G, abbiamo trovato medici competenti e disponibili, va bene? E, vocale, primo, secondo, H, L, M, vocale, A, ma, vocale, A, abbiamo, ma, A, vocale, primo, secondo, H, L, M, N, anche, vocale, primo, B, C, D, 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 medici, vocale, primo, secondo, terzo, vocale, primo, B, C, vocale, primo, secondo, H, K, E, primo, secondo, H, L, M, N, non, vocale, primo, B, C, C, non, K, vocale, A, E, I, O, dopo la C, vocale, primo, secondo, terzo, non, K, è giusto, vocale, A, E, I, O, vocale, primo, secondo, H, L, M, N, conoscevano, conoscono, conosce, Cono, vocale, primo, secondo, terzo, Q, R, S, vocale, primo, B, C, vocale, A, E, conosce, vocale, primo, secondo, H, L, M, N, vocale, primo, B, C, D, conoscendo la malattia A, vocale, primo, secondo, terzo, vocale, primo, non, B, C, D, F, G, vocale, primo, secondo, H, L, M, N, P, vocale, A, E, vocale, A, vocale, P, è giusto, P, Pa, Pe, P, Po, non, conoscendo la malattia, P, è giusto, vocale, primo, secondo, terzo, non, conoscendo la malattia, è giusto, esempio, vocale, primo, secondo, H, L, M, N, P, vocale, primo, secondo, terzo, Q, R, vocale, A, E, vocale, primo, B, C, D, F, preferiva, no, vocale, A, E, I, il, in, I, vocale, primo, B, C, vocale, B, C, D, F, I, è giusto? Vocale, primo, B, C, D, F, I, vocale, primo, secondo, H, L, M, N, ign, ignorarmi. Avete visto anche come è quasi un'alfabetizzazione primitiva, si è tornati quasi a leggere come rallentare costantemente e come però compone, come alla prima fase dell'infanzia si sente la lettera, ma anche come questo modo di cercare le parole dà del tempo a chi ascolta, un tempo completamente dilatato, diverso, anche artistico e letterario, che apre a tantissime altre possibilità mentre lui parla, quindi è addirittura un mondo, se mi permette, spettacolare di comunicare in un ambito in cui tutto è bruciante, violento, costantemente sintetizzato, c'è una forza anche interna nel perdersi e un udito terzo, che non è il solito udito, che ti fa scorrere continuamente quando senti queste lettere, queste vocali e ti tiene attaccato non solo per l'attenzione e rispetto alla risposta, ma anche a un nuovo tipo di alfabetizzazione, a un nuovo tipo di udito, a un nuovo tipo di scrittura. Io lo trovavo molto interessante anche da questo punto di vista, c'erano altre due domande? Attenzione, chi era? Di pure col... Dillo col... Si metti il microfono, Lucia? Ce l'ho io però. Te la prendo? Volevo dire che... Vocale, parimo, B, C, vocale, A, E, I, O, vocale, parimo, secondo, H, L, M, come? Con vocale, parimo, secondo, H, L, M, N, P, plessivamente, vocale, parimo, secondo, H, L, M, N, P, vocale, A, E, I, vocale, parimo, secondo, terzo, Q, R, I, vocale, A, I, A, porti con i medici, vocale, A, E, vocale, parimo, secondo, terzo, Q, R, S, S, è stato, O, vocale, parimo, B, buono. Lei prima diceva che il tutto è iniziato durante un viaggio a Roma per il vostro venticinquesimo anniversario. Mi piacerebbe capire come questa cosa ha modificato anche la vostra vita di coppia, che immagino precedentemente a questo evento avesse magari altri progetti. Ma l'ha modificata completamente e nello stesso tempo in niente. Nel senso che prima ognuno era autonomo, ci vedevamo meno. Chi è la coppia che sta insieme 24H? Direi nessuno. Per cui noi siamo diventati una coppia che siamo cresciuti da quel momento insieme. Una coppia diversa perché comunque ci conosciamo in tutto. Io conosco i suoi bisogni, certamente, ma anche lui conosce tutto dalla mia voce, dai miei passi. Sono cambiati... Abbiamo cominciato a valorizzare cose che non avevamo neanche pensato che ci fossero. Il nostro rapporto è cambiato per quanto concerne con l'altra gente, perché comunque non ci possiamo più rapportare. Lui era un simpaticone, faceva ridere tutti, invece è molto silenzio il suo. Abbiamo modificato tutto, le nostre amicizie. Non c'è più nessuno dei vecchi amici che viene a trovarci che dopo un po' si sono diradati e hanno proseguito la loro vita nel modo, voglio dire, normale. Però c'è anche chi è rimasto... Devi stare spiato? Arrivo subito. C'è chi è rimasto da noi e ci sono queste persone nuove che sarebbero volontari, ma che ormai non sono volontari, fanno parte della nostra casa, sono nostri amici e che comunque ci agliettano con la loro visita giornaliera le giornate, anche perché, come capite, non si può tutto il giorno ascoltare la televisione oppure leggere un giornale, come abbiamo fatto per mesi o per anni. Ultimamente abbiamo improntato la nostra vita proprio più nel sociale, vale a dire, lui ha dei compiti, deve scrivere qualche articolo per il nostro quotidiano, per il giornale della Casa dei Risvegli, deve rispondere alle mail. Ovviamente non può farlo direttamente ed è un passaggio in più con me, con la ragazza che lo segue, con le operatrici. Però lui non è mai fermo. Abbiamo disposto la giornata che lui sia occupato, non dico 24H, ma quasi, anche perché altrimenti lui asclera, nel senso che non sta fermo un attimo. Per cui ha le ore di computer, le ore di lettura, le ore di ricerca in internet, le ore di fare parole crociate, le ore di ascoltare qualche programma TV, però poi è sempre accudito e soprattutto ha un rapporto umano proprio per la comunicazione con qualcuno, sempre. E questo direi che è la cosa determinante, anche perché ci potrebbe essere un altro tipo di comunicazione col computer, più che lui detta da solo a questa scansione, ma l'abbiamo rifiutata perché non c'è più un rapporto poi umano. Non esiste più quel rapporto dove comunque noi lo guardiamo, siamo lì, lo rispettiamo, aspettiamo che parli. Infatti una cosa negativa nel sanitario, nel medico, nell'operatore, abbiamo trovato appunto, visto per il modo che abbiamo di vita, di corse, eccetera, però è molto deludente quando qualche medico ti dice, lo faccia parlare, che poi torno, provi a sentire cosa vuole, che poi vengo. Cioè non esiste mai un rapporto da parte di qualcuno che rispetti i suoi tempi, insomma. Ah, vocale, primo, secondo, terzo, devi parlare? No, ho detto qualcosa. Vocale, devi parlare? Vocale, primo, secondo, H-O-I, vocale, primo, B-C-D-F-G, F-E-G, già risposto. L'ho anticipato.